La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori dall'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano pertanto gli scettatori programmi ad un comportamento leale all'insegna dello spazio. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Sì, è da culo, è da culo, è da culo, è da culo. Vai, bravo, bravo. Vai, bravo. Grazie. 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 bravo 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.